Padre Carlos Luis Suarez Cotorniu, nuovo superiore generale dei padri deoniani, ha espresso i propri sentimenti di ringraziamento e le proprie emozioni dopo la messa celebrata nella cattedrale di San Giovanni in Laterano, dove 150 anni fa era stato ordinato padre Deon, di cui egli è divenuto l'undicesimo successore. Nel servizio che segue capiamo invece i motivi della scelta di questa specifica basilica per la celebrazione della messa di ringraziamento. Padre Juan, siamo arrivati a metà, oltre metà del capitolo generale, abbiamo eletto sia il nuovo generale che il nuovo consiglio, perché abbiamo scelto di venire a celebrare la messa di ringraziamento nella Basilica di San Giovanni in Laterano? Sì, certamente al di là del fatto di venire a un posto di alto rilievo per la Chiesa Universale, come la cattedrale del Papa, soprattutto perché qui 150 anni fa, a dicembre saranno, è stato ordinato. Il padre Deon, il 19 dicembre 1868, in questa basilica, in questa cattedrale. Questo è stato il motivo principale per cercare un posto di rilievo per rendere grazie a Dio per queste nomine, per questo nuovo servizio. In questa Chiesa sono conservate, oltre alle reliquie di Pietro e Paolo, le loro teste, sono conservate anche delle reliquie che richiamano l'Apostolo Giovanni. Che richiamo è per la congregazione questo? Certo, qui si trova il tavolo dell'ultima cena, nel quale l'Apostolo Giovanni ha chinato la sua testa sul petto di Gesù, che è sempre un'immagine molto importante per il padre Deon, il fatto di cercare di ubbidire, ascoltare e avere gli stessi sentimenti del cuore di Gesù. In questo senso è un luogo anche molto doniano, molto significativo anche per la nostra spiritualità. In questa Chiesa è sepolto anche Papa Leone XIII, che è il Papa dell'Arenum Nuvarum, della prima encirchica sociale. Anche questo, penso, sia un richiamo. Sì, di solito, no? Il Deon, la spiritualità, Deone spirituale e dopo il Deon sociale, no? Dunque anche qui si trova la tomba, no? De Papa Leone XIII, il grande promotore, iniziatore, a capo della Chiesa, no? Nel servizio, nell'attenzione ai poveri di quel tempo, nel secolo XIX, che erano specialmente gli operai, no? Dunque un altro richiamo per riaccendere, no? Tutto quello che lo spirito ci ha dato e che noi siamo chiamati a continuare tutti i giorni. Secondo te quali sono le sfide sociali che la congregazione in questo momento ha davanti agli occhi? Una domanda molto difficile, certamente, no? Anzitutto, la prima cosa è di guardare, di vedere, di essere attenti e dopo di ritrovare l'energia sufficiente per dare una risposta aggiornata, una risposta che veramente sia efficace oggi, con le necessità d'oggi, con i mezzi d'oggi, no? Anche una risposta che sia comunitaria, no? Il fatto di essere non soltanto individui che agiscono a nome della Chiesa di Cristo, che ovviamente è sempre buono, ma anche una comunità, no? Che mette insieme tutte le sue risorse intellettuali, spirituali e di lavoro per servire, no? E attendere a quello che veramente oggi c'è bisogno. Grazie.